No, l'università. A me mi è successo, ho le persone che fanno prima, immagino, scienze motore e poi fanno fisio. La seconda volta che entro all'università è quando realmente studi. E non studi solo quello che ti spiegano, se no che studi, vai alla biblioteca. Io per esempio quando vado all'università a dare lezioni, molte volte li chiedo all'università, perché molti alunni si lamentano di questo, è che l'università non mi insegna, è che l'università... Io gli dico, quante volte sei andato alla biblioteca dell'università? Di 50 persone che stanno in sala, uno alza la mano. Quindi il problema è dell'università per un lato, però dello studiante dall'altro. Quante persone entrano a scienze motorie, che sono persone che non vogliono fare un cazzo nella vita e si iscrivono a scienze motorie? Quanto entrano a scienze motorie che rendono persone importanti o fare qualcosa nella vita? Secondo me qual è la cosa strana, il problema vero? È che le persone che non vogliono fare niente, non hanno grandi interessi, però alla fine si laureano. Cioè nel senso... Sì, sì, quello è il problema. Non c'è una barriera, perché ci sta pure, dici tu ti iscrivi, appena finito dal liceo ti iscrivi, non hai capito ancora niente cosa vuoi fare nella vita, non hai voglia, un po' così ci può stare. Ok, ti bocciano all'infinito fin quando o cambi idea e ti metti a studiare con interesse o non studi più. Invece il problema è che quando tu, nonostante non te ne frega niente, arrivi alla fine percorso e dopo c'hai anche il pezzo di carta e che la gente dice vabbè lui ha studiato, c'è il pezzo di carta, è competente, mi posso fidare. Cioè il fatto che la laurea e il pezzo di carta non sia per nulla indice della competenza. No, no, non lo è. Quello è il problema grave. Però la distinzione qua è, ci sono laureati che non sanno niente e ci sono laureati che sanno molto. E quindi per quello dico, non è la università, non è l'università, è l'università più la persona che sta nell'università. Cioè la grande problema dell'università. Io penso per esempio, se Jordan adesso si iscrive a Scienze Motorie impara un sacco di cose, un sacco, moltissime. Perché di ogni, qualsiasi cosa, se il professore dice magari, potete leggere questo se volete, Jordan se lo legge, gli altri no. Capisci la differenza? D'accordissimo. E là dove sta la differenza. La colpa grave appunto, secondo me, è il fatto che l'università però non sbarrano. Eh sì. Perché a chi non ha interesse e studia poco, male. Sì, dovrebbero bocciare di più. E qua in Spagna è ancora più facile che in Italia. E qua puoi dormire completamente, puoi dormire, ti mandano dei lavoretti a casa tipo... Non sei obbligato ad andarci. Esatto, scuola elementare. E io gli chiedevo al professor, però io voglio venire direttamente all'esame alla fine, non voglio venire a classe. Perché sto lavorando. No, 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 che devi venire, è obbligatorio. Se no solo puoi prendere un 5 sopra 10. Dico, perché? Dico, se lo faccio bene l'esame? Dice, no, solo un 5 sopra, se no vieni a classe. Dico, e quando io in Italia praticamente non andavo mai a classe. Perché, per esempio, anatomia, non ho bisogno che nessuno me la spiega. Qual è il libro? Questo, me lo studio io. E mentre gli altri andavano a classe perdendo il tempo, perché andavano per giocare, per parlare, per prendersi il caffè, per andare, no? Per cercare la ragazza, io stavo a casa studiando. Quindi là dove sta la differenza. Tutti abbiamo fatto la stessa università, però con che interesse vai? Io da quando ho 13 anni che volevo essere allenatore, volevo stare in questo mondo. Gli altri che fanno? Ah, che faccio? Non lo so, scienze motorie. Perché, se tutte le persone che si iscrivono a ingegneria, si iscrivessero a scienze motorie, uscirebbero persone più preparate. Però escono persone che non vogliono fare un cazzo nella vita. E l'università, come tu dici, gli consente uscire dall'università. Dovrebbero chiuderli dentro, dire, dove vai, no? Che poi, secondo me, sul lungo... Eh, Giordano, scusa, stiamo registrando, no? Ti sembrava tanto interessante. Stiamo online. Perché l'università lo fanno per un ritorno economico, perché ovviamente se bocciano si iscrivono meno persone, eccetera. Però secondo me sul lungo periodo, alla fine, sarà un boomerang. Perché quando inizieremo... Perché la generazione, diciamo, dei nostri genitori vede ancora l'università, l'università ha la laurea importante, eccetera. Perché tra la nostra generazione, ancora di più quella più giovane, si sta diffondendo comunque l'idea che è prescindibile dall'università. Cioè, come hai detto tu prima, ci sono laureati bravi e laureati capre, perché non dipende dall'università, dipende dalla persona sia a voglia e come studia. E se questa cosa si diffonde sempre di più, questa idea, si arriverà al punto che la gente dice, Vabbè, ma l'università, che ci spendo a fare soldi, che ci spendo a fare fatica, mi compro i libri, mi compro i videocorsi, mi compro le cose studiute da me, perché l'università non è garanziata di nulla, ok? E infatti, al giorno d'oggi, io vedo che tante facoltà, diciamo, sono aggrappate come salvezza al fatto che il pezzo di carta serve legalmente per determinati lavori. Cioè, da domani per quei lavori viene tolta l'esclusività della laurea, praticamente non avrebbe più senso iscriversi a quell'università. E lì dove entra un po' la paura dell'intrusista, dell'intruso, qua succede molto. Io lo dico agli alunni, io non ho problemi se qualsiasi persona che non ha fatto lo studio prova a lavorare, uguale a me. Però perché lui ha più clienti di me? Mi dovrei chiedere, no? Se io sono meglio di lui, perché lui ha più clienti di me? Quindi, il problema dove sta qua? Partendo dal fatto che lavora bene, che non sta vendendo, diciamo, che non vuole fottere le persone, partendo che lo fa con tutte le buone intenzioni del mondo. Però se lui lavora meglio di me, il problema è mio. È vero che politicamente, legalmente, lui è un intruso, però lui sta aiutando più persone perché è migliore di me. Quindi, lui mi dovrebbe rilanciare a me perché magari io, che mando riposo assoluto, sto ammazzando le persone. O io che faccio intervenzione di chirurgia, come si dice in italiano? Chirurgia. Chirurgia. La faccio quando non è necessaria e sto peggiorando la persona. Quindi, il problema qua è un poco guardare dentro di nostra propria casa e dire, vediamo un poco, no? Prima di dire, ah, quello no, quello no, quello no, perché non c'è il titolo, quello sì, perché sa più di me. Ora, perché sa più di me? Ora, io che ho il titolo, a parte che è legalmente rispaldato, devo sapere più di lui. Obbligatoriamente. Se sai meno, lo sento se dice qua in spagnolo. In Italia in tante discussioni poi esce fuori il punto che dicono, ma se tu hai paura che qualcuno che non ha studiato ti ruba il lavoro, devi farti due domande. Perché se non hanno studiato e sono più bravi di te, lavorano meglio di te, tu cosa hai studiato? Cioè, il tuo titolo cosa sta a rappresentare? Anche se, piccola parentesi, molti si lamentano del fatto che magari abusivi, gente che non ha studiato, eccetera, poi lavora bene e ha tanti clienti, non perché è bravo, ma perché magari si fa pagare pochissimo. E quindi regala quasi... Ma per me nemmeno è un problema quello, perché c'è i prezzi alti. Io prezzi alti. Quindi è un problema di mentalità, no? Quella persona vende allenamenti a 5 euro. Io non voglio persone che pagano 5 euro per allenamenti. Là dove sta pure il problema. Tu stai disposto a abbassare i tuoi prezzi, a fare una guerra dei prezzi? Io no. Noi ogni anno alziamo i prezzi. Perché ogni anno il nostro valore aumenta perché stiamo studiando tutti i giorni. E siamo meglio da quello che va a stare a 5 euro. Quindi le persone andranno a 5 euro? Sì, è come le palestre low cost. Le palestre low cost, perfetto. Io vado a una palestra low cost. Io sono un suorio di una palestra low cost perché è perfetto. Io non ho bisogno di un monitor, non ho bisogno di un allenatore che mi dice quello che devo fare. Io voglio andare, usare le macchine e andarmene a mia casa. Poi è perfetto il low cost, no? Qual è il problema? È che le persone vogliono fare la guerra dei prezzi, vogliono che le persone vanno da loro perché costano di meno, perché hanno un titolo universitario. No, devono venire a te perché sei buono e devono pagarti lo che hai bisogno di pagare. È là dove sta un po' il problema. Io pongo un'aneddota che mi è successo poco fa. Mia sorella vive in Italia con la famiglia e vive nel sud Italia. Tu già sai cosa succede nel sud Italia, Domenico. Ancora più al su, in Puglia. Gli faceva male le costole da due anni più o meno che gli fanno male. Gli ho detto vai da un fisio, sapendo che nel paesino dove vivono i fisiosi sono abbastanza... Non sono abbastanza buoni, no? E quindi gli ho detto, se ha bisogno di aiuta per aiutarti, io gli mando articolo, gli mando libro per studiare. Si puso alla difensiva il fisio. Non voleva sapere niente perché lui aveva studiato a Roma, aveva studiato... È sempre così. All'università privata e aveva studiato con un professore non sonato. E non sapeva, non sapeva la differenza tra un dolore cronico, un dolore persistente. Non sapeva la differenza e i cambi neurofisiologici che si stanno producendo. E quindi ha detto a mia sorella, se non esce niente la retrografia, allora il dolore è psicosomatico. Le dico, psicosomatico? Passico. Classico proprio. E quindi, quando mia sorella ha detto, no, che mio fratello ti vuole far leggere quello, e tuo fratello che è medico? Dico, scusa, ma... E che non c'è bisogno di essere medico, no? Non stiamo parlando di qual è la professione. Io ti sto parlando che io ti do a te, che legalmente hai l'autorità per recuperare mia sorella, tutti gli articoli scientifici, quelli che realmente hai bisogno, non tutti, ti ho fatto pure un filtro, e ti mando quello che hai bisogno per migliorare come professione, gratis te lo sto mandando. Cosa che io qua mi pagano, no? Mi pagano per fare queste cose. Te lo sto mandando gratis per aiutar mia sorella. E non le vuoi nemmeno... Es che nemmeno lo voleva vedere. Non voleva sapere nemmeno che documento era. Quindi, il problema qua qual è? La domanda, no? Qual è il problema? Di nuovo torniamo a quello di antes. La università, la idea che c'è la persona in università, che quando esce la università già sta preparato per il mondo. La università non ti prepara per il mondo. L'università è un'accademia. Ti prepara... Lo che realmente dovrebbe insegnare la università è a pensare. Una forma di studiare, che studiare, come, quali sono gli autori più importanti. Quello che ti deve fare... La università non ti prepara a lavorare. Se la gente si crede che la università... La università non è tecnica. Non è una università, non è tecnica. Tu non esci da là sendo ingegnere, montando le cose. No, la università ti prepara per lavorare. Ti deve dare le basi. Ora, se non ti dà nemmeno le basi, addio, no? Però impari a lavorare quando lavori. No, no, prima. Ma poi ancora più al giorno d'oggi, in cui le cose si evolvono così velocemente, che uno non può pensare che fai l'università e sta a posto per la vita. Anzi, qua finisci l'università e dopo due anni già devi aggiornarti subito, perché se no resti... Io, diciamo, non ho mai lasciato passare due anni per aggiornarmi. Io sempre glielo dicevo, no? Perché, per esempio, la mia famiglia non sa nemmeno quello che faccio, per farti un'idea, no? Quando io gli dico che sto studiando, pensano che vado all'università ancora. Dicono, come che stai studiando? Dico, sì. Io tutti i giorni mi sveglio alle sette da mattina e studio almeno quattro ore al giorno. Perché? Perché, a parte che la mia passione, per essere migliore tutti i giorni, quello dovrebbe essere una cosa comune a tutte le professioni e soprattutto se lavoriamo con persone. Che se lavoriamo con macchine, no? Pure, no? Dovrebbe essere lo stesso. Perché se lavoriamo con persone, tu non puoi aspettare due anni per attualizzare. Due anni di che? Due anni di che? No? O cinque anni di che? No, no, no. Tutti i giorni. Poi io credo che un altro problema sia appunto relativo pure al fatto che tante persone, cioè alla fine, questi lavori sono lavori in cui tu devi avere a cuore comunque a risolvere il problema delle persone, devi avere piacere a risolvere il problema delle persone. Invece vedo che tanti fanno l'università, prendono il pezzo di carta e poi vogliono essere pagati. Alla fine, nel pezzo di carta vogliono essere pagati. Non se ne fregano neanche se il problema viene risolto, non viene risolto. No, se no è sicosomatico. Sempre resta la carta. Per questo poi noi anche vogliono aggiornarsi, perché dicono io ho la carta, ho fatto il mio sacrificio, ho preso, ho fatto gli esami, ho il pezzo di carta, adesso devo essere pagato per il mio sacrificio. Cioè l'università viene vista spesso come un sacrificio proprio che uno fa sull'altare per poi vivere dirente alla vita. Cioè il pezzo di carta mi dovete rispettare, mi dovete pagare e non viene vista come uno strumento appunto che serve è a darti la capacità di capire dove vuoi guardare alle fonti per studiare, come studiare, come riconoscere magari una fonte valida da una non valida, come aggiornarsi, come ragionare, perché fondamentalmente l'università ti deve dare delle conoscenze di base. Però poi dopo le conoscenze specifiche lavorative sono in continua evoluzione, come abbiamo detto. Se tu non ti aggiorni, anche tu fai biochimica, prendi 30 e lode, ma non è che poi sai lavorare, sai fare gli allenamenti, le diete, la riabilitazione, perché hai preso 30 biochimica o 30 biomeccaniche. Quelle sono delle fondamenta su cui poi tu devi imparare a fare tutti i ragionamenti e rinnovare le competenze di volta in volta anche con l'esperienza. Questo lavoro deve essere una passione. Se è un sacrificio è meglio che non fai niente. Il mio consiglio è non fare niente. Vai a lavorare a un supermercato, prendi il dinero che devi prendere, hai lavori pure che si pagano meglio senza pensare tanto. Per questo è un lavoro dove bisogna pensare tutti i giorni, bisogna comunicare, bisogna saper parlare, bisogna saper... Quindi se non lo fai per passione cambia lavoro. Questo è il mio messaggio, Jordan, se lo vuoi prendere poi sotto, se non lo fai per passione questo lavoro cambia, vale? Cambia, lascialo. Lascia spazio a quello che vogliono farlo. Non ti iscrivi nemmeno all'università, perché rimangono persone fuori per... Forse persone che hanno più voglia rimangono fuori perché entrano altri che non vogliono fare niente. Quindi completamente d'accordo, Domenico, con questo. Psicosomatico è un po' come le barbabietole da zucchero in geografia, no? Sì, quando non sai che succede, psicosomatico. Non è problema mio, che te lo risolva un altro. Potrebbero dire lo stesso, però dire, guarda, non so come risolvere il tuo problema, vai da un altro professionale che magari sì lo sa, no? O aspetta, vado a studiare, aspetta là, no? Vado a studiare e vediamo. No, come io ho preso la laurea, vent'anni fa, perché questa è un fisico che si è presa vent'anni fa, a Roma, alla Sapienza, come se a me mi interesserebbe qualcosa, no? Alla Sapienza, poi allora, già, no? Però cosa si è presa vent'anni fa alla università? E a parte, anche se l'avessi presa adesso, non sapresti niente, lo stesso. È molto bello quando dicono ho vent'anni d'esperienza, ma in realtà sono cinque ripetuti quattro volte. Ma magari cinque, sono vent'anni che fanno le stesse cose. Esatto. Se sono sbagliate, sono vent'anni di esperienza. Cinque settimane. No, di esperienza. Ripetute per vent'anni. Non è lo stesso, no? Avere un'esperienza come quella che ti sto dicendo, no? Alla fine, l'esperienza che deve essere, che tu studi, lavori, studi, lavori, studi, lavori, quello che lavori lo studi, quello che studi lo lavori, no? Così dovrebbe essere l'esperienza, riflettere sempre sopra se lo sto facendo bene o no. Partendo dal fatto sempre di intentare scoprire o intentare, quasi dice no, è refutare l'ipotesi, no? Nostra ipotesi iniziale. Noi abbiamo sempre delle creenze, no? Dei credi, no? Dei credi. Quindi noi dobbiamo cercare, attraverso dello studio, di rompere questi credi. Perché noi, per esempio, crediamo che il riposo è buonissimo. E questo non me lo toglie nessuno dalla... Quello che dovrei fare non è cercare studi che confermano che il riposo è buono. Dovrei cercare studi che confermano che il riposo non è buono. Che poi sarebbe... Che è la definizione di metodo scientifico. Esatto. Cioè uno cerca di confutare le proprie idee, perché poi se cercando di confutare non ci riesce, dice allora vuol dire che l'idea era giusta. Esatto. Se ci riesce, dice ho migliorato. Nessuno fa questo. Normalmente si faccia il repeating, per esempio. Confirmation bias. Esatto. Esatto. Passiamo allora a un altro argomento, che in realtà è una domanda che ci è sorta oggi, che ne abbiamo parlato. Noi abbiamo un gruppetto su... In spagnolo, su Whatsapp, che fa un po' il verso... Città lo spagnolo. Tanto qua lo possiamo dire, tanto non ci ascoltano. Fa un po' il verso a un altro gruppetto che c'è là, che fa un po' scappare da ridere, che si chiama... Comunque il nostro gruppo l'abbiamo chiamato Dioses della Biomeccanica. Che ovviamente non ci vogliamo autoproclamare dei o della biomeccanica, ma è per fare il verso un'altra cosa, ma questi sono dissing spagnolo. Ed è venuto fuori, insomma, abbiamo parlato del pullover con manubrio. Sì. Quindi con pullover classico con pesi liberi. È per il dorso o è per il pettorale? No, allora, forse viene detto un po' da tutti, no? Un esercizio per il dorso, perché magari c'è grande stretch, eccetera, eccetera. Sì. E invece, Antonio... Mi piace portare il contrario, no? Portare il contrario sempre, no? Antonio è la persona che, diciamo, che quando ha un dubbio in miomeccanica è quello che mi fa il provo e il solving. Chiedo a lui, a Domenico, quindi Domenico magari chiede a Paolo, no? A volte. Il problema molte volte è quando scegliamo gli esercizi, no? Della selezione di esercizi è che o ci basiamo in ricette classiche, no? Il libro questo dice quello, o molte volte ci basiamo nell'anatomia, però l'anatomia di libro, no? L'anatomia è statica, che ci dice, no, l'origine di inserzione di questo muscolo è questa e l'azione di questo muscolo è questa sempre, no? Indipendentemente da che stiamo in movimento, del punto di riferimento, dell'azione della gravità, dell'azione della resistenza, è tutto, no? Quindi basarsi nell'anatomia del libro statica, no? Nel punto di riferimento posturale statico, no? Non è utile, no? Non è utile e a parte può rivolgersi in nostra contra, no? Perché? Nel caso del pullover, no? Tu dici, vale, il pullover che sto facendo, no? Una flessione, no? Della glenumerale. Dice, vale, la flessione della glenumerale, tu ti va al libro dell'anatomia, chi fa la flessione della glenumerale, no? La flessione estensione, tu dici, vale, vale, sta il pettorale, il deltoio anterior, poi il deltoio laterale pure sta, perché deve fare questo, poi sta il trapezio, le fibre inferiori del trapezio fanno, no, 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 eccetera, no? Però che fa più movimento, no? È che il pettorale, il dorsale, no? Per quello dicono, il dorsale è estensore della glenumerale, per quello se nel pullover facciamo estensione, no? Contra una resistenza, è un esercizio di dorsale. Senza analizzare nella posizione della persona, nel tipo di resistenza che abbiamo, non lo stesso fare con una pesa, no? O farlo con un, con un, con un, come si dice, una polea, o farlo con un, con un cavo, o farlo con un elastico, non è lo stesso, no? Quindi, che pullover stiamo parlando? Che è un poco quello della, quello che stiamo parlando qua è un pullover con, con manubrio, in posizione supina, ok? Dove normalmente nel, nei, in certi libri realmente, già, sì che scrivono che è del pettorale, insieme al dorsale, però non è del tutto corretto, perché dobbiamo analizzare tutto il recorrido, recorrido si dice o me lo sono inventato, no? È il ROM, il ROM, no? Il range of motion, lo diciamo in inglese, che alla fine troviamo il range of motion, no? Della, dell'articolazione, e a parte, no? A parte quello che, quello che fanno un poco tutti, a parte dell'analisi cinematico, dobbiamo fare l'analisi cinetico, no? Le forze, dobbiamo analizzare le forze che si stanno producendo. Per un lato abbiamo le forze esterne, in questo caso abbiamo la forza di gravidà, che insieme alla massa, alla fine che abbiamo del manubrio, diciamo, costituiscono la carga.